Una defiance del Giulianova può consegnare tre punti alla vastese per la partita di due giorni fa, il derby dell'Aragona finito sul campo 1-1. Il centrocampista giuliese Balducci, squalificato per due giornate nello scorso campionato, ha scontato la prima di queste giornate in Chieti-Giulianova, ultima gara prima del lockdown. Poi è andato in panchina con il Vasto Girardi alla prima giornata di questo campionato e ha giocato a Vasto. Insomma, deve scontare il secondo turno. Domani il giudice sportivo potrebbe deliberare il 3-0 a tavolino, che lascerebbe a 0 il Giulianova e porterebbe a quota 3 la vastese. Un regalo inaspettato per la squadra di Silva, che più che compensa il meno uno in classifica di inizio stagione. E in questi giorni il tecnico degli Aragonesi avrà il centravanti che attendeva Antonio Martignello, come confermato all'abruzzo del pallone dal DG Andrea Masciangelo. Martignello, ex Cerignola. Era anche allo stadio a vedere la partita, quindi diciamo che abbiamo trovato l'accordo, quindi da martedì sicuramente si allenerà con noi. E' una stagione particolare per la vastese, magari con meno ambizioni sul campo, ma con l'obiettivo di una ristrutturazione dirigenziale e societaria che esplicherà i suoi effetti in futuro. E' vasto, vive di calcio. Il presidente Bolami, con il co-presidente Scafetta, negli anni, in questi cinque anni, hanno sempre fatto tanti sacrifici. Da quest'anno in maniera forte è rientrato il vicepresidente Salvatorelli, un preditore importante della città. Si è avvicinato molto Maurizio Sabelli. Quindi stiamo cercando di costruire una società. Stiamo iniziando a costruire qualcosa di importante, guardando intorno, abbiamo ristrutturato la sede, abbiamo cambiato il segretario con un profilo diverso. Con questo le scuse sono state già fatte del presidente, anche il punto di penalizzazione è dovuto tutto a un modo di lavorare che prima era un po' superficiale. Invece adesso la prima cosa che Bolami e tutti i risoci vogliono, vogliono comunque una società professionale e poi la squadra. E questo diciamo che è un punto di partenza, perché prima si pensava solo ad allestire delle grandi squadre, di grandi nomi. Però il primo obiettivo è avere l'ossatura. L'ossatura parte da noi, lavoriamo giorno dopo giorno per cercare di migliorarci. Grazie. 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 Grazie.